Hola Iro, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alessandro del Saggio, cofondatore della Community Investino e di Clabiro. E preparati perché in questo video, te lo avevo anticipato, te lo avevo promesso, ti darò un valore estremo. Farò un qualcosa, ti mostrerò un qualcosa che nessuno su YouTube Italia, nella nicchia investimenti, per quanto riguarda la parte immobiliare, ha mai fatto. Ti andrò infatti a mostrare il dietro le quinte, tutti i dettagli, senza nascondere nessun segreto, quello che vengono chiamati i segreti del mestiere. Non ti lascerò niente, ti mostrerò proprio tutto, 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 anche quei dettagli che magari qualcuno non ti fa vedere, anzi non ti fa vedere nessuno, perché ne è un po' geloso. E ci sta, io ti mostrerò tutto, te l'avevo promesso, voglio darti tanto valore, quindi preparati. Perché con questo video andrò anche a rispondere alla domanda che spesso mi viene fatta. Ma come si fa a comprare un immobile a metà del suo valore? Come si fanno a trovare i veri affari, le vere opportunità? Cosa c'è dietro? Perché a volte mi dicono, io su immobiliare.it non trovo un immobile a metà prezzo. Chiaramente è normale, perché per fare degli affari spesso bisogna andare a lavorare su delle situazioni un po' più complesse. Ed è proprio quello che ti mostrerò io, ti mostrerò come è nata un'operazione complessa, come è stata acquisita, come è stata gestita, che è la vera chicca di questa operazione e quanto poi abbiamo guadagnato. Quindi davvero imparerai tantissimo. È un video, te lo premetto perché è importante, un po' tecnico, necessariamente un po' tecnico. Quindi mi raccomando, massima attenzione, prova a seguirmi perché è un video un po' articolato, ma cercherò, te lo prometto, di essere semplice, semplice, semplice. Due parole sull'immobile. Quest'operazione è un'operazione che ha avuto una trattativa lunghissima, lo vedrai, molto particolare, molto tecnica, e è un immobile, di fatti, che abbiamo acquistato in una corte, in un paese in provincia di Milano, in una corte molto vecchia, una corte del 1850. Ricordati questa data perché poi tornerà utile nel momento in cui vedremo il video. Ed è un immobile di 76 metri quadri, se non sbaglio, ed è un bilocale bello grande, dove affaccia da una parte sulla corte del paese, con invece metà dell'affaccia su una delle piazze del paese. Quindi comunque una bella distribuzione, vabbè, in una corte vecchia, quindi con tutte le problematiche delle corti. Ma ora, andiamo a schermo condiviso perché te l'ho promesso, ti faccio vedere davvero tutto, 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 e non tralascio niente, quindi preparati e andiamo a vederlo. Per farti capire tutta la cronostoria, la cronologia di questa operazione, necessariamente ho creato questo file per ricordarmi tutti i passaggi. Perché, te l'ho detto, è un'operazione che ha avuto una trattativa lunghissima, anche se poi da quando l'abbiamo acquistato, abbiamo venduto, non è passato tanto tempo. Però ti mostrerò tutti i passaggi, che cosa ha fatto la differenza. Allora, tutto inizia a marzo 2020, data in cui facciamo il primo sopralluogo di questo immobile che ci è stato segnalato. E partiamo da qua. A inizio marzo, te racconto bene, un avvocato con cui collaboriamo ci contatta. Mi chiama e mi dice, Ale, ho un'opportunità, una possibile opportunità. Una mia cliente ha avuto un'eredità e in questa eredità c'è un immobile, proprio nel paese in cui lavori te e in cui fai le tue operazioni, che secondo me è interessante un'opportunità. Ok. Poi mi aggiunge che questa persona vorrebbe monetizzarlo, perché vorrebbe avere liquidità, bisogno di liquidità, e quindi che poteva essere interessante andare a vederlo. Mi aggiunge però poi un dettaglio importante. Guarda che questo immobile è occupato in maniera abusiva, perché c'erano dentro delle persone che prima pagavano l'affitto, poi hanno sospeso il contratto d'affitto, cioè hanno rinunciato al contratto d'affitto dicendo che se ne andavano, e invece sono state dentro. E non se ne volevano andare, non se ne vogliono più andare. Va bene, partiamo. Tra l'altro marzo 2020 scatta il Covid. Quindi noi siamo andati proprio qualche giorno prima del Covid, qualcosa di genere a fare il sopralluogo. E anche lì non volevano farci entrare, primo aneddoto, quindi inventati che siamo del... Nel senso, dobbiamo prendere delle misure per delle cose. Comunque sempre con la proprietà siamo entrati. E abbiamo visto lo stato di fatto dell'immobile in quel momento. Parliamo con la proprietà, diciamo ok, beh, l'immobile è interessante, peccato che è occupato. Cosa vuoi fare? Ce lo dai così occupato, o lo liberi e poi faccia la trattativa? La proprietà, chiaramente sapendo che è un immobile occupato, in maniera abusiva, vale meno di un immobile libero. Cioè, no, io confido che riusciamo a liberarlo in tempi brevi, e quindi ne riparliamo quando è liberato. Ok, nessun problema. Comunque a noi ci interessa. Passano i mesi, scoppia il Covid in maniera importante, tutti gli sfratti vengono bloccati, quindi non esce più l'ufficiale giudiziario per gli sfratti e quant'altro, si blocca tutto. Tant'è che passa un anno, dove noi andiamo a... Gli tanto in tanto, chiede alla proprietà come va, come sta andando, vogliamo prenderla immobile, raccontaci un po'. A un certo punto ci contatta lei e ci dice allora, qui le cose vanno per le lunghe, aveva già speso una cifra importante, comunque per fare gli sfratti, tutti i processi e quant'altro, ha un costo, gli avvocati hanno un costo, inizia a dirci che valuta di venderlo così. E quindi, dopo un anno arriviamo alla fase di trattativa ufficiale, che è partita da 45.000 euro, e siamo arrivati a chiudere a 30.000 euro offerti da noi, con due condizioni importantissime. La prima è che le avremo pagate in due modalità, ovvero la prima versando 10.000 euro e facendo un preliminare trascritto, e i restanti 20.000 euro che gli avremmo dati nel momento in cui ci fosse stata effettivamente la consegna delle chiavi con l'immobile libero da persone e cose. Questa è la prima condizione che è stata accettata, e la seconda, secondo me molto importante e significativa, è proprio qui il centro dell'operazione, il centro che ha reso l'operazione una bellissima operazione che l'ha tutelata, l'ha blindata, perché non era scontata, ci abbiamo messo tanto anche a pensarlo con il nostro team di legali, e la seconda condizione è stata ok, lo facciamo, quindi ti diamo 30.000 complessivi, 10 subito e 20 quando è tutto a posto, quando è tutto libero, quando ci dà le chiavi, ma andiamo ad aggiungere questa clausola. Se dovessimo trovare, al momento della consiglia delle chiavi, delle differenze tra lo stato di fatto al momento dell'acquisto effettivo, e lo stato di fatto di quando abbiamo visto noi l'immobile, andiamo di fatti a compensare quello che sono i costi, che dovremmo sostenere in più, che non erano previsti, oppure mette a posto l'immobile, ok? Quindi abbiamo inserito questa clausola. Perché? Perché semplicemente noi abbiamo fatto a marzo 2020, prima sopra il luogo, chissà quando avremmo acquistato l'immobile, magari sarebbero passati degli anni, così è stato, e chissà in che stato mi sarei ritrovato io l'immobile, no? Non lo sappiamo, perché con persone dentro, con tutte le persone che non hanno particolare cura, chissà come ci saremmo trovati l'immobile. Quindi abbiamo inserito questa clausola, che non è scontata, ma davvero è stata qui la chiave per blindare l'operazione e renderla tranquilla anche nel tempo. E ora, mentre ti racconto questo, voglio proprio farti vedere, a schermo condiviso, quello che ti sto dicendo messo in pratica. Te l'avevo promesso, no? Ti faccio vedere tutto, tutto. E quindi, partiamo dal prezzo di acquisto, che ti ho detto essere stato per 30.000, te lo faccio vedere qua. Articolo 6, questo è un articolo del preliminare trascritto, vediamo che abbiamo concordato i 30.000 euro, di cui 10.000 euro pagati subito, con l'assegno circolare i 20.000 euro, che li avremo pagati nella fase successiva. Qui, la clausola importante di cui ti parlavo, la andiamo a leggere insieme, e dice, se durante il sopralluogo, di cui è l'articolo 4.8, quindi la sostanza è, ora ti diamo 10.000, quando sarà libero ti diamo gli altri 20, ma prima di darti gli altri 20, andiamo insieme a fare un sopralluogo, e vediamo se ci sono differenze rispetto allo stato di fatto, che abbiamo visto noi l'ultima volta. Come andiamo a definire lo stato di fatto? L'abbiamo scritto nel preliminare trascritto, cioè abbiamo condiviso, e abbiamo indicato, quello che era lo stato di fatto. Quindi abbiamo scritto, quando siamo stati a marzo 2020, l'immobile aveva le finestre a posto, i pavimenti erano a posto, abbiamo scritto tutti i dettagli, così che poi dopo qualche anno, dopo qualche mese, non avremmo potuto ritrattare e dire no, non erano a posto le finestre, lo abbiamo scritto davanti al notaglio. E quindi poi abbiamo inserito questo articolo, che dice, lo leggiamo, se durante il sopralluogo, di cui all'articolo 4.8, dovessero emergere nell'unità abitative, vizi e o difetti e o danni assenti in occasione del sopralluogo di marzo 2020, e in ogni caso, se dovesse emergere una situazione non conforme in base a quanto specificato all'articolo 4.9, dove abbiamo detto com'era l'immobile, com'era quando lo abbiamo visto, e la parte promettente venditrice non volesse e o non fosse in grado di tener fede all'impegno di ripristino, come lo abbiamo visto noi, le parti potranno comunque sottoscrivere l'atto definitivo di compravendita, in tal caso l'importo per la sistemazione dell'immobile sarà detratto o compensato dal prezzo di vendita, e qui davvero c'è stata sicuramente la parte più importante di tutta l'operazione. Quindi marzo 2021 gli diamo 10.000 euro e aspettiamo, aspettiamo che gli sfratti erano bloccati, intanto poi li hanno liberati, hanno dato la possibilità di continuare con gli sfratti, poi però li hanno bloccati di nuovo, insomma un casino, fatto sta che l'immobile è stato liberato il 30 ottobre 2022, quindi è passato praticamente un anno e mezzo, ok, da quando abbiamo versato i primi 10.000 euro. Nel frattempo, noi comunque non ce ne siamo stati con le mani in mano, di tanto in tanto, devo essere onesto, l'abbiamo provata, l'abbiamo provato a dire, guarda, sta roba qui non sappiamo quanto va avanti, metti che va avanti altri tre anni, cioè ti tieni in mano questi immobili per tre anni, eccetera eccetera, oddio, vabbè, ogni tanto provavamo e l'abbiamo fatto, uno ci prova, poi uno può dirgli no, un'offerta per dirgli, guarda, non ci interessa come viene liberato l'immobile, ci facciamo carico noi, togliamo tutti i vingoli, ti aggiungiamo 5.000 euro, 10.000 già messi e ci prendiamo l'immobile così, occupato, ci pensiamo noi poi a mettere a posto il tutto, comunque subentriamo in tutti quelli che sono le obbligazioni, ci ha detto di no, però poi ci ha detto, però con 10.000 accetto, ok, con altri 10, ha detto, mi ha provato a offrire 7.500, non ha accettato, ok, quindi ogni tanto riprovavamo a tornare alla carica, fatto sta che poi ad un certo punto l'immobile è stato liberato, il 30 ottobre 2022, abbiamo fatto il sopralluogo, quindi il 4 novembre 2022 siamo andati a fare il sopralluogo con un nostro tecnico, architetto, e ti faccio vedere le foto di come abbiamo trovato l'immobile. Allora, alcuni problemi c'erano già, essenzialmente alcuni sono emersi, sicuramente è peggiorato, vabbè, le porte erano messe male, però erano già messe male prima, una era distrutta, vabbè, l'impianto elettrico chiaramente era da rifare, i tubi, questi c'erano già, vabbè, erano messi male, il vero problema è stato questo, ovvero è crollato tutto quello che era il pavimento nel mezzo, perché corte vecchie, te lo ripeto, ti ho dato all'inizio, corte del 1850, praticamente si è imbarcato il solaio, quindi questo è un danno grosso, perché bisogna togliere tutto il pavimento, bisogna andare a togliere tutte quelle che sono state le macerie, e andare a ricreare tutta la struttura che poi sorregge tutta la parte in superficie, e questo è un bel costo, e fortuna vuole che ci eravamo tutelati in quel modo, ora ti faccio vedere altre foto, questa è la corte dall'esterno, questo è l'affaccio della corte, invece l'affaccio dall'altra parte molto bello, guarda qua sopra, passavano i tubi sopra, quindi molto brutto l'impianto, e qua non so se si vede, ma c'è proprio un cerchio in cui è crollato tutto il pavimento, qui vabbè, imbiancato un po' in maniera improvvisata, tutta la casa aveva il pavimento imbarcato, un bel danno, c'era da rifare tutto sostanzialmente, le piastrelle, a me piacevano anche le piastrelle, io l'avevo lasciata era molto pop, invece ho detto no togliamole, ci sta, la scala a chiocciola vabbè l'abbiamo dovuta sistemare, questa l'entrata purtroppo non era una bella entrata, vabbè con la scala a chiocciola si arrivava su in via quasi esclusiva, se si entrava invece dalla parte principale della corte, i vicini non eravamo sempre magari educati e lasciavano uno spazio quindi bisognava fare un po' lo slalom a volte, quindi questo è il bagno, questa è una bella parte della corte, chiaramente un immobile vecchio questo è evidente e quindi gli abbiamo detto qui c'è un bel danno, cioè qui abbiamo davvero dei costi importanti perché dobbiamo rifare tutto, cioè tutta la parte di sostegno va rifatta e allora noi abbiamo detto devi scontarci 10.000 euro e alla fine abbiamo trattato e come era immaginabile come ci sta e alla fine abbiamo acquistato l'immobile per complessivi 25.000 euro quindi 10.000 li abbiamo già dati altri 15 li abbiamo versati all'atto definitivo per un totale quindi di 25.000 euro siamo andati a acquisire l'immobile quindi abbiamo fatto l'atto effettivo il 21 novembre 2022 e il 10 dicembre 2022 abbiamo iniziato i lavori abbiamo rifatto il solaio abbiamo sistemato tutto abbiamo rifatto l'immobile quasi completamente abbiamo lasciato solo le finestre perché semplicemente non arrivavano nei tempi e ti faccio vedere come è uscito effettivamente l'immobile eccolo qui sembra un altro immobile cioè non sembra lui abbiamo cambiato tutto vedi tra le finestre abbiamo cambiato però abbiamo messo un bel pavimento abbiamo cambiato le porte abbiamo cambiato lo zuccolino è uscito un bello immobile obiettivamente è uscito un bellissimo immobile questa è la camera questa appunto è la camera con la porta chiusa questo è il bagno bellissimo è uscito davvero un bel bagno puoi vedere la doccia c'era la vasca l'abbiamo cambiata cioè abbiamo fatto un bel lavoro comunque essenzialmente l'immobile si presentava davvero bene che cosa è successo abbiamo fatto i lavori in quel range di tempo e poi l'abbiamo messa in vendita ebbene c'è arrivata la prima proposta esattamente un mese e mezzo dopo che l'abbiamo messa in vendita per 80.000 euro te la faccio vedere qui l'abbiamo rifiutata abbiamo proposto e rilanciato a 90.000 euro e abbiamo chiuso poi a metà infatti il 31 maggio 2023 poi abbiamo completato e accettato la proposta per 85.000 euro il 31 luglio 2023 te lo faccio vedere abbiamo effettivamente fatto l'atto di vendita per 85.000 euro e quindi questa è un po' l'operazione ora ti faccio vedere quelli che sono stati i numeri abbiamo comprato per 25.000 euro abbiamo ristrutturato per 17.697 euro abbiamo pagato 3.500 euro di advisory quindi all'avvocato che ce l'ha segnalata al segnalatore insomma abbiamo pagato un po' di consulenze 7.000 euro tra imposta di registro che l'imposta di registro abbassa tipo 2.500 euro un pelo meno però abbiamo pagato due volte il notaio abbiamo pagato due volte il notaio perché abbiamo fatto il preliminare trascritto che è un atto e poi l'atto di acquisto effettivo in più io non ero in Italia quindi ho fatto una procura speciale per venderlo quando non c'ero e in più abbiamo pagato l'avvocato che ci ha aiutato a stendere quello che è stata la strategia per tutelarci e poi abbiamo avuto vabbè imu utenze e un po' di imprevisti quindi 3.500 3.600 euro forse anche 3.700 di imprevisti comunque fatto sta che tolto anche il pagamento dell'agenzia tra tutto abbiamo speso 57.000 euro e abbiamo venduto l'immobile per 85 e ottenuto di fatto un ricavo di 26.303 euro che equivale al 46% di ROI quindi una bella operazione un bel ROI in linea con quello che ci aspettavamo come prezzo di vendita rapido e quindi questa è stata un po' l'operazione io spero che questo video ti sia piaciuto che non sia sacco troppo tecnico fammelo sapere nei commenti però volevo proprio mostrarti tutto per rispondere proprio alla domanda ma come ci trovo agli affari serve creare delle relazioni serve oltre a avere poi un buon prezzo di acquisto ad essere bravi nella trattativa bisogna essere bravi a tutelarsi ad eventuali imprevisti che potrebbero capitare cioè qua la differenza l'ha fatta davvero inserire quelle clausole nel preliminare trascritto e nell'organizzare così l'acquisto dell'immobile fatto in un altro modo avrebbe creato dei problemi cioè immaginiamo se avessimo d'acqua 30.000 subito avremmo avuto un'esposizione finanziaria più alta e non ci saremmo tutelati dopo quindi cioè è proprio come si confeziona una volta l'operazione che fa la differenza e quindi anche avere un bel team tecnico che ci sta dietro avvocati fiscalisti advisor che ci segnalano belle operazioni questo è importante quindi volevo fartela vedere come ti avevo promesso senza filtri ti ho mostrato tutto 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 fammi sapere se ho rispettato la parola di averti dato un contenuto unico di fatti e di grande valore e se ti è piaciuto ne farò degli altri perché abbiamo altre cose belle in ballo fammelo sapere qua nei commenti se hai delle domande falle pure che rispondo a tutti noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao